Il crash nel mare di Java del Boeing 737 MAX 8 della compagnia indonesiana Lion Air, avvenuto lo scorso 29 ottobre, poco dopo il decollo da Jakarta, dipese da gravi problemi tecnici, difetti di costruzione e certificazione, oltre che dall'imperizia dell'equipaggio. Insomma, un volo che era senza scampo, come attestano i risultati dell'ultimo report prodotto dagli esperti indonesiani. Un grave difetto al sistema antistall sarebbe stata la causa maggiore. Nel disastro senza superstiti sono morte 189 persone. Purtroppo i difetti del Boeing 737 MAX sono costati la vita anche ad altre 157 persone che a bordo di un velivolo gemello della Ethiopian Airlines sono precipitate qualche mese dopo in Africa. Per questo sono ancora a terra tutti i Boeing 737 MAX di tante compagnie in tutto il mondo. La Boeing afferma di aver risolto i problemi, ma l'aereo non ha ancora le certificazioni per riprendere le rotte aeree. Grazie. 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 Grazie.